Nell'ambito dei controlli disposti in ambito nazionale dal Comando Carabinieri per la tutela della salute presso attività di ristorazione pubblica, a seguito di un controllo dei Carabinieri del NAS di Ragusa presso un chiosco bar, il responsabile del SUAP del Comune di Scicli ha disposto la cessazione dell'attività di commercio, dettaglio e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di pertinenza di una nota struttura ricettiva della rinomata frazione rivierasca di Donna Lucata. La misura si è resa necessaria a seguito dell'accertamento dell'assenza delle prescritte autorizzazioni, in particolare registrazione sanitaria e commerciale, e per le scarse condizioni igieniche riscontrate all'interno dell'esercizio, violando il pacchetto igiene previsto dal regolamento europeo. Al titolare dell'attività commerciale sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 10.000 euro.